Ciao ai vini! Oggi Ciambelline, renna di Babbo Natale. Rompiamo un uovo in una ciotola, zucchero, mescoliamo con le fruste fino a ottenere un composto sfumoso. Uniamo il cacao alla farina, lievito, fecola di patate e mescoliamo. Setacciamo direttamente nelle uova, aroma all'arancia, miele. Prima mescoliamo e poi frulliamo fino a amalgamare il tutto. Il composto dovrà risultare denso. Spennelliamo uno stampo per ciambelline e poi andiamo a distribuire il composto. Ci aiutiamo con due cucchiai. Niveliamo, togliamo gli eccessi e cuociamo per 20 minuti. tagliamo il cioccolato con un coltello. Andiamo a sciogliere a bagnomaria e mescoliamo di continuo fino a quando il cioccolato non si scioglie. Estraiamo le ciambelline quando sono fredde e poi andremo a decorare con il cioccolato. Distribuiamo bene il cioccolato sulla ciambellina aiutandoci con un cucchiaino. Facciamo riposare per qualche secondo e poi andiamo a decorare. formiamo le corna con dei mini brazel, gli occhi con dei confetti colorati ed infine il naso con una ciliegia candita e provateli che sono speciali e seguitemi per le prossime ricette.